Domani parola agli elettori in Grecia con la sfida tra la sinistra radicale e i conservatori. Basta austerità, ha detto il leader di Siriza, Tsipras, chiudendo ieri sera la campagna elettorale. Un nostro eventuale governo non rispetterà gli accordi presi in passato. Con Tsipras solo ingovernabilità all'attacco del premier uscente Samaras. Non mancano le tensioni tra i governatori nazionali dopo il piano di acquisti di titoli di Stato per oltre mille miliardi lanciato dalla BCE. Sarà efficace per entità e durata, assicura il numero uno di Banca Italia, Visco. Critico il tedesco Weidmann, porta con sé il rischio che non si facciano solide politiche fiscali. Al via le grandi manovre in vista alla prossima settimana dell'inizio delle votazioni per eleggere il capo dello Stato. Cercheremo un nome condiviso, fa sapere il PD che con Guerini assicura resteremo uniti. Un fronte comune anti-nazzareno, la proposta lanciata invece da Vendola, Sel e Civati, dissidente democratico. Ma i grillini per ora si sfilano. Aspettiamo quattro nomi da Renzi. Nelle corti d'appello, l'inaugurazione dell'anno giudiziario a Palermo sottolineata ancora l'eccessiva lentezza dei processi. In un clima di delegittimazione o addirittura di leggio, i giudici mostrano spirito di sacrificio. Le parole da Milano del presidente Canzio, intervenuto anche sull'audizione di Napolitano al processo Stato-mafia. Un passaggio, ha detto, che si poteva evitare. Il processo Stamina a Torino dovrebbe essere formalizzata già durante la prossima audienza del 27 gennaio. La richiesta di patteggiamento per Davide Vannoni, ad un anno e dieci mesi. Gli avvocati del fondatore di Stamina tuttavia escludono che nell'atto sarà inserito lo stop alle attività e il ritiro del ricorso al Tar del Lazio contro il Ministero della Salute, atteso il parere del PM Guariniello. Situazione estremamente grave. Così il governo giapponese è scaduto l'ultimatum posto dalle milizie jihadiste sui due ostaggi giapponesi in Siria. Non possiamo dare risposte certe sulla loro sicurezza, ammette Tokyo. Il gruppo ha chiesto un riscatto da 200 milioni di dollari. Grazie a tutti.